Per il Vasso Girardi la primavera non è ancora sbocciata ma è sempre più vicina al Ditella contro la seconda classificata Vigor Senigallia. Il punto conquistato è come un frutto di stagione. Prima del fischio d'inizio il capitano Sergio Ruggeri ed il dirigente Antonio Crudele hanno reso omaggio al tifoso Giandomenico Lombardi, ponendo dei fiori e una maglietta a memoria nel posto da lui solitamente occupato e poi non poteva mancare il minuto di raccoglimento. Al nono punizione di Hernandez Ruggeri non c'entra la porta. Al diciassettesimo Gargiulo in volata riesce a passare a Calemme che spara in orbita. Al ventiduesimo il direttore di gara Marco Ferrara della sezione Roma 2 ritiene regolare il fallo in aria commesso da Panaro ai danni di Cheriota. Ciò scatena le proteste degli ospiti. L'arbitro eleva due cartellini gialli in campo, Mancini e Pesaresi, e due rossi diretti in panchina, un dirigente ed il numero 15 rotondo. Al trentasettesimo calcio di punizione. In favore del Vigor Senigallia sul punto di battuta Baldini respinge la difesa. Al quarantacinquesimo punizione pericolosissima dal limite dell'aria, Cheriota trova un muro nella difesa casalinga. Al quarantaseiesimo trema ancora il vasto Girardi con un tiro di prima intenzione di Mancini che finisce sull'esterno della rete. Si torna dall'intervallo e sulle immagini di Antonio Trotta il vasto Girardi apre con un'azione che potrebbe essere da gol. Calemme vede l'inserimento di Mancini, il tiro del numero 11 sfiora però il secondo palo. Al settimo gli ospiti ci riprovano su calcio di punizione e Cheriota, forse aiutato dal vento, bacia il legno. Al nono, Mancini riesce a ipnotizzare Roberto che non vede Hernandez alle sue spalle. L'intesa tra i due giallo-blu è perfetta e il numero 7 va in rete, 1-0 per i padroni di casa. Al ventesimo Cheriota dalla bandierina prova a mettere in mezzo ma il pallone viene respinto. Al ventiduesimo capitano Ruggeri salva un pericolosissimo tiro avversario e di testa mette in angolo. Corner fatale per gli uomini di Coletti che viene deviato in rete da Pesaresi con il tocco di Machin, 1-1. Al venticinquesimo Cheriota di prima intenzione para Petriccione. Dopo dieci minuti Calem, incaricato alla battuta del calcio da fermo, brucia un'importante occasione non trovando il varco vincente. Come al trentanovesimo Panaro che è riuscito a farsi strada verso la porta avversaria a lunga per Fiori che non aggancia. Al tripice fischio il match si chiude con un pareggio che accontenta entrambe le squadre.